Una notizia dell'ultima ora a proposito del fronte migranti che è stata una delle questioni affrontate anche ieri dal presidente del consiglio Giorgia Meloni con il cancelliere austriaco in visita nel nostro paese. Arrivata questa mattina al porto di Livorno la life support è la nave di emergency a bordo 35 migranti soccorsi durante la sesta missione in mare 35 persone a bordo che sono tutti uomini, ci sarebbe però anche un minore. A terra ad attenderli il sindaco oltre a tutto quanto il dispositivo coordinato dalla prefettura di protezione civile comunale e regionale croce rossa, polizia, insomma ufficio immigrazione, tutto quanto per monitorare appunto questo sbarco. E' la terza volta che una nave di una ONG arriva a Livorno per sbarcare migranti che vengono soccorsi in mare. Era già successo per esempio il 22 dicembre con la stessa nave, l'ice support, allora erano 142 le persone a bordo e poi il giorno dopo con la CIA che aveva soccorso altre 108 persone.